Il Diacono, la creatura che vediamo nelle sequenze finali di Prometheus uscire dal corpo dell'ingegnere, è forse una delle creature più misteriose dell'intero franchise. Chiamato così per la caratteristica testa a punta, il mostro ha sollevato molti dubbi nell'universo cinematografico e tuttora, a causa anche del poco minutaggio su schermo, non abbiamo una precisa risposta sulla sua biologia. Prima di continuare, invito chi non l'ha fatta a vedere il mio precedente video a proposito degli effetti del Black Goo e la relativa spiegazione in merito. La prima cosa da chiarire è che il Diacono nasce dopo che il Trilobite, un parassita dalla forma cefaloide, impregna un soggetto. In seguito, per un tempo che non sappiamo ancora di finire, quest'ultimo verrà resciso dall'interno della creatura ed emergerà completando la sua nascita. Dotato di un corpo antropomorfo, una testa come già specificato prima a punta e da una caratteristica doppia mascella come le murene, il Diacono, al momento della sua nascita, ha ancora un cordone ombelicale attaccato, facendo quindi comprendere che la sua gestazione è simile a quella di mammiferi. Per comprendere però di più bisogna parlare del metodo di trasmissione del Black Goo. Escludendo Sean Fifield e Charlie Holloway, che si sono infettati oralmente e che in seguito hanno subito un cambio morfologico totale, la trasmissione che ci interessa è quella sessuale che ha subito la Shaw. Prima infatti che il patogeno compromettesse del tutto il suo DNA, Holloway ebbe un rapporto sessuale con la dottoressa e l'anfettò tramite i suoi fluidi corporei. Il risultato di questa azione fu una gravidanza del tutto anomala, infatti la dottoressa Shaw dopo circa 20 ore portava già in grembo un feto di 3 mesi. Dopo che quest'ultima rimosse il parassita con un intervento chirurgico, si limitò a scappare e a chiudersi la porta di sicurezza alle spalle. Sorgono quindi le seguenti domande. Nonostante la gravidanza anomala, la Shaw avrebbe partorito come si fa quando si ha un feto umano? Inoltre, per dare vita al Tralovite, occorre un utero anche se quest'ultimo è compromesso? Alla prima domanda possiamo rispondere con un semplice no. Come vediamo nella pellicola, la creatura stava spingendo dall'interno l'addome della Shaw in maniera naturale, segno che da lì a qualche minuto, forse qualche ora, la creatura sarebbe uscita violentemente dal corpo della dottoressa. Per quanto riguarda la seconda domanda, invece possiamo solo teorizzare. Considerando il fatto che non abbiamo altri casi di trasmissione orale in un soggetto di sesso femminile, possiamo ipotizzare che il patogeno abbia in qualche modo bisogno di un seme maschile per arrivare all'utero e dare vita alla creatura. Il Tralovite nasce dunque in questa maniera e si presenta come uno stadio intermezzo, portatore di un embrione o forse di una versione modificata del patogeno. Infatti quest'ultimo non attacca l'individuo per ucciderlo, ma si limita ad avvinghiarsi al soggetto e in qualche modo contagiarlo. Sotto questo punto di vista la creatura ha una forte somiglianza con le funzioni base del facehugger. Tornando a parlare del diacono, possiamo intuire dalla sua forma che quest'ultimo assume le caratteristiche dell'ospite, spiegando quindi la forma umanoide che possiede. Allo stesso tempo, però, nessun tipo di studio sul campo è stato mai fatto, e quello che rimane non sono nient'altro che ipotesi. Studiare un esemplare del diacono ci permetterebbe di fare enormi passi avanti nella comprensione sia della creatura aliena sia del Black Q.